Alcuni sono semplici tabernacoli, altre sono vere e proprie chiesette disseminate nella foresta. A Vallombrosa è stato recuperato integralmente il circuito delle cappelle votive. Marco Aghe. Natura o storia? Ambiente o cultura? Non c'è dubbio. Vallombrosa e tutte queste cose insieme. Luogo di spiritualità scelto mille anni fa da San Giovanni Gualberto, ma anche sinonimo di gestione oculata del bosco. Una foresta impiantata dai monaci, coltivata attraverso i secoli. Dagli abiti che arrivavano al mare via Arno si ricavavano gli alberi delle navi. Una abbazia piena di opere d'arte e di volumi preziosi. E poi quasi un distillato di abbazia in pillole disseminate nel bosco come le briciole di Pollicino, le cappelle. Sono dieci, varie nella forma e nella complessità strutturale, collegate da un sentiero che si snoda all'ombra delle piante secolari. Ricordando gli episodi salienti della vita dell'ordine Vallombrosano e del suo fondatore. Un circuito che è stato recuperato integralmente grazie a una curata campagna di restauri finanziati dall'ente Cassa di Risparmio. Un piccolo patrimonio di tabernacoli, portichetti, cappelle, vere e proprie chiesette affrescate che rischiava il degrado definitivo. Sono stati i volontari della Proloquo ad adottare il circuito e i manufatti, a sottolinearne l'importanza e a catalizzare l'interesse che ha portato al recupero. Il risultato adesso è affidato alla sensibilità dei visitatori. Il sentiero è delicato, va usato con cura per consegnare al futuro il risultato di mille anni di storia.